Enrico Alessandrini, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, voi avete presentato una mozione qualche giorno fa riguardo i lavori di Pescara Porto e ora dite che questa mozione è rimasta nel cassetto del sindaco. Cosa chiedete in particolare? Lo scorso 16 dicembre abbiamo portato in consiglio ed è stato approvato all'unanimità un ordine del giorno che chiedeva appunto al sindaco di valutare la sospensione del permesso di costruire della Pescara Porto per motivi che riguardano la pubblica incolumità per il fatto appunto che quelle sono aree che la regione ha sottoposto a rischio di esondazione molto elevato. Questo documento approvato all'unanimità dal consiglio, ripeto, è rimasto appunto in un cassetto per circa un mese perché soltanto ieri la presidenza del consiglio lo ha inviato alla segreteria del sindaco. Nel frattempo abbiamo visto appunto che i lavori della Pescara Porto sono iniziati quindi ci chiediamo per quale motivo si è aspettato un mese per mandare una mail alla segreteria piuttosto che appunto fare le necessarie valutazioni. Voi cosa chiedete in particolare? Noi chiediamo appunto che siccome grazie a questo provvedimento regionale nelle aree a rischio di esondazione molto elevate il Comune ha dovuto bloccare tutta l'esecuzione dei lavori edilizie ed urbanistici chiediamo semplicemente che la Pescara Porto sia trattata nello stesso modo in cui vengono trattati tutti gli altri.